Tre Champions League, tre Supercoppe Europee, due mondiali per club, ma anche un campionato italiano, uno francese ed uno spagnolo. E questo è solo il suo palmarès ed allenatore, perché Carlo Ancelotti la carriera l'ha iniziata correndo dietro ad un pallone. Bandiera del Milan e della Roma con il club Meneghino ha vinto tutto in campo internazionale, con i giallarossi ha dominato in Italia a gran parte degli anni Ottanta. Ma cosa c'entra Carlo Ancelotti con la Calabria? Beh, sarà lui l'ospite d'eccezione del premio Ceravolo targato 2016. Tenuto a segreto fino all'ultimo, la giornalista Maurizio Insardà, editore ed organizzatore del premio che ricorda il presidentissimo dell'US, Nicola Ceravolo, il nome di Carlo Ancelotti è stato ufficializzato nella conferenza stampa di presentazione della settima edizione. Ancelotti si unirà al già consistente Albodoro, in cui spiccono i nomi di Claudio Ranieri, Marcello Lippi, Fabio Capello, Antonio Conte, Cesare Prandelli e Averzianetti lo scorso anno. Appuntamento quindi al 2 maggio alle ore 18 al Politeama di Catanzaro. Alessio Buompasso per la CNews24